Musica Ci incamminiamo da Prato del Rio, nell'unica giornata libera prima del nuovo confinamento. Musica La giornata è bella e la neve anche, un po' lavorata dal vento dei giorni scorsi. Musica Dopo uno spuntino all'Alpe dei Rat, proseguiamo salendo su qualche pendio più ripido. Musica Il tratto di cresta che precede la vetta è sempre molto spettacolare. Musica Musica Ed eccoci sulla punta Sbaron, intenti a fotografare il panorama, oggi davvero ottimo. Musica 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 Mentre scendiamo la cresta è sferzata da un vento gelido, ma più in basso il clima è gradevole e allegro. Musica 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 Musica